L'errore dal dischetto di Marcello regala la prima vittoria all'Olimpico per la Roma di Fonseca cioè ragazzi bentornati in questo nuovissimo video nel quale volevo parlarvi un po' dell'amichevole più bella ed interessante dei giallorossi fino a questo momento insieme a mio fratello però prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace e un commento poi vi consiglio di iscrivervi al canale e seguirmi su Instagram, link in descrizione direi di partire subito dai top e flop di questa gara per te quali sono stati i migliori giocatori e quali invece hanno deluso più degli altri allora sicuramente Dzeko il miglioro in campo senza alcun dubbio Paolo Ovec un buon portiere, non ha fatto una partita eccellente ma sempre ordinato sapeva sempre cosa fare, sempre ben posizionato incolpevoli sui gol assolutamente, questo non si può dire niente due gol imparabili sì sicuramente la linea difensiva, i centrali, gli dai un 6 Fazio ha fatto delle buone cose, delle buone entrate ma troppo lento su alcuni interventi il tipico Fazio in alcune situazioni il soglio Fazio non ha fatto una partita diciamo da buttare però poteva far meglio in alcuni casi con il Jesus ha fatto il compitito ha fatto il compitito come Jesus d'altronde che si è sempre ordinato ma non ha fatto granché diciamo quindi un 6 a tutte e due e serve un difensore come sempre, che sia Alder World, che sia Nacio, che sia qualsiasi altro difensore, per me un centrale lì dietro serve per favore però non Rugani, perché comunque 30 milioni per Rugani ma anche 25 ma anche 20 ma anche 15 sono soldi praticamente buttati non è quello che ci serve diciamo, è un buon giocatore ma non è quello che ci serve ma non fa una stagione buona da Ampli cioè ci serve un studio di Manolasse quindi ci serve uno che potrebbe essere Alder World, comunque un giocatore che ha un'esperienza fuori dal normale per un obiettivo della Roma ha giocato un mondiale da protagonista, è arrivato terzo ha giocato una finale di Champions, comunque gioca sempre titolare con il Tottenham ha giocato in Spagna, in Olanda purtroppo è vero difficile Alder World Roma-Real Madrid, però c'è qualche altro top che vuoi evidenziare? Quali? allora, Zagnolo mi è piaciuto molto, ha fatto un'ottima partita anche Perotti specialmente nel primo tempo, mi è piaciuto come spingeva ha anche firmato il gol comunque del pareggio bel gol grazie a Zagnolo bella azione di Zagnolo, la mezza e mezzo, perfetta per Perotti mi è piaciuta l'asse Collarov-Perotti come si vedeva con Di Francesco e Under, fino a che è stato in campo, ha fatto un'ottima partita ha fatto belle discese molti spunti forse alcuni poteva fare qualcosa di meglio come l'occasione che Gego gli ha servito su un piatto d'argento con quel passaggio filtrante a scavalcare praticamente la difesa un passaggio da sua terra però alla fine non si è comportato, l'ha fatto male alla fine ha attirato anche un ottimo rigore spiazzando completamente Courtois come contro vorrei dire allora, non mi è piaciuta la mediana tra Cristante e Pellegrini un po' perché Pellegrini non lo vedo bene in quella posizione ma in generale non mi è piaciuto come hanno aiutato la difesa diciamo, nella fase offensiva hanno impostato bene si sono fatti trovare pronti, hanno smistato palloni ma quando stavamo in fase di non possesso non rientravano infatti anche un po' mettendo in difficoltà i difensori tra cui Florenzi che si è trovato a reggere più uomini e anche Collarov perché si trovava in mezzo a due o tre persone non hanno fatto molto bene da filtro tra la difesa e la trequarti non hanno fatto bene il compito nel centro campo comunque sono d'accordo con te per me Pellegrini è più un trequartista un fantasista, uno che deve giocare dietro la punta mediano un po' sacrificato soprattutto perché alla fine è accanto ai Cristante che si è un vero e proprio mediano ma vi ricordo che comunque l'Atalanta giocava trequartista quindi è stata un po' un'invenzione di Francesco di metterlo dietro e se poi ci metti un altro giocatore un po' adattato forse la difesa potrebbe veramente non fare molto bene il filtro cioè la difesa è quello che è perché non è che sia una grande difesa esattamente è una buona difesa però orfana di Manolasse non sostituito per me non può essere una difesa diciamo da squadra che vuole a me in Champions c'è da lavorare sotto il profilo tattico perché ci sono certe disattenzioni assolutamente in campionato non possono essere un po' a stare inosservati l'interpreme è che il campionato c'è tra due settimane praticamente e la Roma per me è ancora indietro sia a livello un po' di mercato bisognerà vedere la faccenda a Dzeko comunque Dzeko per me migliore in campo assolutamente ha fatto segnare e ha segnato veramente un giocatore strepitoso il miglior Dzeko diciamo quando Dzeko sta in forma è quello che ci serve è un fenomeno mi dispiacerebbe tanto vederlo partire io dico o Dzeko o Icardi se no nessun altro Icardi comunque sarebbe un sogno perché un giocatore è fantastico è vero prendendo Icardi ti prendi i suoi pregi e i suoi difetti tra cui anche la moglie procuratrice vabbè però ti penseranno poi i dirigenti speriamo che non gestire la situazione però comunque se non prendiamo Icardi non voglio prendere un Iguain sbogliato voglio Dzeko rimanesse Dzeko Iguain è un bel giocatore però in questo momento gli preferisco Dzeko Icardi potrebbe non lo sostituisce sotto il profilo tecnico però è un giocatore che fa la differenza di quello che ci serve nel caso Dzeko partisse e credo che sia anche diciamo il più quotato perché secondo me nel caso di partenza di Dzeko ci sono buone possibilità che arrivi Icardi secondo me sì secondo me sì perché l'Inter non lo vuole non lo vuole tenere quindi diciamo è pronto alla cessione Icardi non è contento di venire a Roma però secondo me in qualche modo si può fare anche per la volontà della Roma di prenderlo beh comunque sarebbe un'ipotesi di mercato che accontenterebbe sia la Roma che l'Inter quindi potrebbe essere conveniente per entrambi vedremo ovviamente si inserisce Dzeko nella trattativa e quindi quanto si parla 30-40 milioni più Dzeko per me sarebbe buono il problema sai qual è che se noi facciamo questa operazione di mercato temo che non ci siano poi i soldi per il difensore ovvio e quello è un problema io darei la priorità prima alla difesa che è all'attacco per me può rimanere tranquillamente Dzeko con un difensore con un innesto di qualità diciamo lì dietro non mi fa impazzire l'Ovren però sicuramente è meglio Drogani però alla fine ragazzi l'Ovren è un fazio più giovane è uno abbastanza lento che non è velocissimo non è un velocista ed è uno che si andrebbe a fare numero però lo paghi 20 milioni con 25 per l'Evalder World che per me è proprio di un'altra categoria rispetto all'Ovren ma è quello che ci serve è un giocatore veloce non dico veloce ma comunque è rapido non come Fazio già serviva un difensore l'anno scorso perché Fazio non poteva fare il titolare poi inoltre è partito Manolas e va bene come sostituto di Fazio può andare bene Mancini però poi serve almeno un altro difensore ragazzi serve un altro difensore veloce che possa sostituire Manolas già comunque fantastico ragazzi veramente veramente bravissimo parliamo un po' della partita comunque il Real va in vantaggio grazie al gol di Marcello un po' dormita difensiva possiamo dirlo della difesa della retroguardia della Roma comunque Florenzi non fa benissimo la diagonale ma non viene neanche aiutato Marcello si accentra saltando il laterale italiano e tira sul secondo palo beffando Paolo Lopez c'è subito però la riposta della Roma che stava giocando veramente molto bene soprattutto nel primo tempo risposta affidata al Nicolo Zagnolo discesa perfetta sulla destra e poi incursione centrale con un annesso passaggio per Perotti a tagliare la difesa Perotti a due passi beffa Courtois però poi c'è il colpo di testa di Casemiro che riporta nuovamente in vantaggio i Blancos anche qui per me Paolo Lopez completamente incolpevole non poteva fare veramente nulla poi fortunatamente passaggio filtrante per Dzeko che lascia inizialmente sfidare il pallone e poi conclude gol come ha detto anche Trevisani per me è veramente molto simile a quello che fece a Siviglia un gol che ci fece un po' impazzire tutti perché Dzeko era appena arrivato si tratta un po' praticamente di tre anni fa Dzeko era appena di quattro anni fa scusate Dzeko era appena arrivato fece quei due gol mi sembra comunque al Siviglia in una partita all'Olimpico che poi vincemmo con sei gol fatti con sei gol all'attivo impazziremo tutti per Dzeko poi quella stagione andò come andò però comunque rimane un centramanti di indiscusso indiscusso assolutamente valore quello è un grandissimo gol purtroppo non è un gol dal Dzeko perché in campionato lo vediamo raramente fare i gol del genere magari però Dzeko è un centramanti che fa proprio il lavoro sporco è completamente diverto dai cardi come avevi detto tu infatti sì quello è un gol dai cardi Dzeko è bravo a fare altro però ci ha fatto vedere che è capace anche è capace anche a segnare comunque non si diventa che vuole non ieri della Serie A così per caso con più di 25 gol Dzeko è un centramanti fortissimo formidabile che ha vinto diversi campionati ha trionfato praticamente in mezzo Europa e quindi merita veramente rispetto di tutti non capisco onestamente i fischi non capisco veramente comunque si va ai rigori si va ai rigori la Roma ne segna tutti quanti dal primo all'ultimo mentre il Real sbaglia proprio l'ultimo con Marcello che colpisce la traversa penso sui rigori ci sia poco veramente veramente poco da dire però il senso di questa partita per me poteva essere proprio a livello tattico e la Roma per me nel primo tempo non si è comportata male aprendo veramente molti spazi nel secondo un po' peggio però è vero che comunque con il caldo non è mai facile giocare quindi le squadre si sono allungate parecchio parecchio lunghe parecchio lunghe abbastanza lunghe molto sicuramente una buona presentazione diciamo della squadra in vista del campionato la prima partita di Fonseca all'Olimpico sono stato soddisfatto bella partita però serve ancora qualcosa di più soprattutto dal mercato speriamo bene in Petraghi priorità al difensore centrale poi se parte Dzeko un centroavanti ma adesso pensiamo a rinforzare il reparto difensivo il video è finito vi invito a lasciare un piace un commento e un'iscrizione al canale ciao a tutti ciao a tutti